Vescara Foggia, ritorno della semifinale play-off in programma giovedì prossimo con inizio alle 20.30. Davvero incredibile, clamoroso il clima di entusiasmo che si respira in città. Nella prima giornata di vendita libera sono stati, pensate, acquistati già 17.000 biglietti sold out, Curva Nord, Distinti e Tribuna Maiella. L'adriatico Giovanni Cornacchia sarà completamente esaurito con oltre 20.000 presenze. Allora veniamo alle notizie dalle rispettive sedi. Naturalmente cominciamo dal Pescara. Zeman recupera Plizzari, tornano a disposizione Brosco, Palmiero e Milani. Per quanto riguarda Plizzari nulla di preoccupante, solo un fastidio all'adduttore, peraltro già smaltito, salvo imprevisti. Giovedì l'ex Milan tornerà regolarmente tra i pali. In difesa certo rientro a post-squalifica di Brosco. Al suo fianco uno tra Boben, Favorito e Mesic. A sinistra, malgrado il buon esordio di Paolo Gozzi. Verosimile l'impiego del rientrante Milani. Centrocapo tornerà a Palmiero nel triangolo completato da Raffià e Craia. In attacco l'Escano dal primo minuto, supportato dall'ex Merola e da Delle Monache, con Cupone inizialmente in panchina. Sale intanto a otto il computo dei diffidati. Plizzari, Craia, Colai, l'Escano, Boben, Delle Monache, Gozzi e Raffià. Foggia privo degli squalificati. Conte che di noia torna a disposizione lo spagnolo Rutienz nel cuore della difesa. Dal primo minuto il pescarese di Pasquale, insieme con Leo e Rizzo. In mediana Rossi recupera Frigerio. Sette gol in stagione, di cui due nei play-off. Grande assente nell'andata della semifinale. Davanti nel 3-5-2 di partenza, Ogunzei e con uno tra Peralta e Jacoponi, che al momento sembra in vantaggio in caso di parità al novantesimo. I gol in trasferta non valgono doppio. Teppi supplementari e eventualmente calci di rigore. Il match sarà diretto dal 35enne Marco Monaldi della sezione di macerata, la quinta stagione in C. Un precedente col Delfino. Pescara-Modena 1-2, 19 ottobre 2021, 3 con i satanelli, 2 KO e una vittoria. Foggia-Turris 2-0, primo maggio 2022, primo turno preliminare play-off.